Amici avventurieri, questa è la sesta volta che faccio partire questo video e non lo posso più, perché mi impapero sempre e parto con discorsi che non c'entrano nulla. Allora, ciao a tutti e bentornati sul canale di Te lo do io il Dungeon. Io sono Lorenzo e sono il vostro Dungeon Master Vintage. Questo è il mio canale dedicato a D&D e in modo particolare in questo momento sto parlando, sto affrontando varie tematiche che riguardano D&D quinta edizione. Insomma, sappiamo che per un altro annetto, forse due, continueremo a giocare con la quinta edizione. L'anno prossimo uscirà One D&D o comunque la nuova versione di Dungeons & Dragons, anche se sarà un po' una piccola rifinitura, però io credo che tanti ancora continueranno a giocare Dungeons & Dragons quinta edizione, anche nel periodo intermedio in cui nel frattempo ci prenderemo i nuovi manuali e cominceremo a leggere come giocare con la nuova edizione. Allora, qual è il tema di oggi? Il tema di oggi è la condizione invisibile e in generale l'invisibilità, come viene trattata in D&D quinta edizione. Allora, l'ultimo video che ho fatto era sulla percezione passiva. Era un piccolo tassello, un piccolo mantuccino che viene utilizzato per cosa? Per parlare di furtività, più solo che per parlare di invisibilità e anche di come nascondersi da invisibile. Infatti, la tratteremo anche stasera. Quindi, comunque, stasera invisibilità e poi, se avete delle curiosità sulla percezione passiva, andate a riprendervi l'ultimo video. Allora, tutto ciò che dirò oggi, stasera, insomma, in questo video, lo trovate scritto anche sul mio Dangeo, sul mio Dangeo, vabbè, avete capito? Lo trovate scritto anche sul mio blog, in cui vi sono anche dei riferimenti e i tweet che andrò a citare, quindi sarà molto interessante. Casomai, qui ovviamente a video non vi scrivo i tweet in inglese, andate sul mio blog, cercate l'articolo sull'invisibilità e lì trovate tutti i riferimenti che vi faccio in questo video. Allora, siete pronti? Sì, certo, siete pronti. Allora, 3, 2, 1, invisibilità! Allora, magia, 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 cambiamo occhiali per leggere gli appunti che mi sono preso, altrimenti non riesco ad andare avanti su questo video. Allora, prima di tutto, partiamo dalla condizione invisibile, che è proprio il mattoncino essenziale per parlare di qualsiasi cosa. Dove è descritta la condizione invisibile? È descritta nel manuale del giocatore, pagina 290, dove ci sono tutte le condizioni. Avete presente afferrato, accecato, prono, eccetera, eccetera, incapacitato? C'è anche invisibile. E andiamo a vedere punto per punto che cosa ci dice la condizione invisibile. Prima di tutto, vantaggio e svantaggio. Esatto, sì. Allora, i tiri per colpire della creatura invisibile ottengono vantaggio. I tiri per colpire di chi attacca una creatura invisibile subiscono svantaggio. E questa, diciamo, la spiegazione, non c'è bisogno di fare una grande spiegazione. Sapete che il vantaggio in D&D, qui in tradizione, si fa tirando due dadi da 20 e si sceglie il punteggio migliore. Lo svantaggio, invece, si tirano due dadi da 20 e si sceglie il punteggio inferiore. E poi ci sono i vari bonus, d'accordo? Quindi, se voi siete invisibili, chi vi attacca ha svantaggio. E se voi attaccate qualcuno mentre siete invisibili, avete vantaggio. E quindi è una signora condizione. Ottima, ottima per combattere. La seconda affermazione caratteristica della condizione invisibile è questa. Allora, attenzione. Una creatura invisibile è impossibile da vedere senza l'impiego di magia o altri mezzi, capacità e talenti. Attenzione, questa cosa qua magari potrebbe sfuggirvi che cosa significa. Però va a toccare direttamente le regole del gioco. Ad esempio, l'attacco di opportunità. L'attacco di opportunità voi lo potete sferrare contro una creatura che vedete, che esce dalla vostra portata. Un attimo prima che lui esca dalla portata, voi, tac, vi potete fare un attacco da mischia. Va bene, che è questo speciale attacco, che si chiama attacco di opportunità, che utilizza la reazione. Quindi, se voi siete invisibili, vi potete allontanare, potete girare attorno agli avversari, anche se gli avversari sanno che state girando attorno a loro, anche se vedono le vostre impronte per terra, non importa, voi, siccome siete invisibili, costoro gli avversari non vi vedono e quindi non date attacco di opportunità. Questa è la prima conseguenza fenomenale. E c'è anche un tweet di Jeremy Crawford che comunque conferma questo, lo trovate scritto nel blog. La seconda cosa, ad esempio, è interessante, è che non potete essere bersaglio degli incantesimi in cui c'è scritto che devi vedere la creatura che devi colpire. Cioè, ad esempio, uno famosissimo, l'incantesimo disintegrazione. Va bene? Allora, solitamente questi incantesimi sono quelli che richiedono tirosolvezza, ma non sono ad area. Quindi in cui tu vai a indicare una creatura che vedi e ci colpisci la, tipo disintegrazione, appunto, è l'altro del far tirosolvezza. Va bene? Comunque nella descrizione degli incantesimi ci deve essere scritto che devi vedere il bersaglio. In questo caso qua, se tu sei invisibile e il mago, l'incantatore che ti lancia l'incantesimo non ha a vedere l'invisibile, ovviamente non è in grado di vedere il bersaglio e quindi non venite disintegrati. Adesso provate un po' a pensare anche quello che, non so, potrebbe funzionare con... un mago potrebbe proteggersi con la condizione invisibile, ad esempio, per il lancio degli incantesimi. Allora, avete presente come funziona contro l'incantesimo? Contro l'incantesimo un incantatore lo può lanciare per contrastare il vostro lancio degli incantesimi. Ma se voi siete invisibili, ok, il mago avversario, l'incantatore avversario non vi vede e quindi non può fare contro l'incantesimo. Naturalmente uno dice, eh sì, però ha invisibilità o invisibilità migliorata, richiedono concentrazione, eccetera, eccetera. Quindi, beh, allora, innanzitutto sia che siate invisibili o con invisibilità migliorata o con quella normale di secondo livello, è vero che voi tenete la concentrazione, però potete ad esempio lanciare delle palle di fuoco che sono incantesime istantanee senza bisogno di mantenere la concentrazione. In questo caso, gli avversari, gli incantatori, non possono fare contro l'incantesimo. Perché contro l'incantesimo? Perché voi siete invisibili, quindi non riesce a vedervi. Quindi l'invisibilità addosso ad un incantatore che lancia magie è formidabile. Ed ecco qui una terza parte che invece nel blog, e anche in questo video, lo chiamerò Nascondersi ovunque con l'invisibilità. Allora, la frase che dice la condizione invisibile è la seguente, al fine di nascondersi, la creatura invisibile è da considerarsi come se fosse pesantemente oscurata. Allora, la spiegazione di aria pesantemente oscurata è a pagina 183 del manuale del giocatore, però anche leggendola magari non vi chiarerà subito le cose, anzi rischiate di fare un po' di confusione. Questa cosa qua significa semplicemente che voi una volta che siete invisibili potete nascondervi ovunque. Quindi voi non siete costretti ad essere dietro un muro, dietro, che ne so, un mobile o un riparo per provare a nascondervi. No, voi potete nascondervi sempre. Anche il centro della stanza, anche se non è assolutamente ammobiliata. In quanto voi è come se foste pesantemente oscurati, quindi dietro un riparo, anche se non lo siete. Se non ti nascondi, gli avversari sanno dove sei. Questo qui è un altro particolare importantissimo. Infatti dice, l'ubicazione della creatura può essere intuita dai rumori che emette o dalle tracce che lascia, quindi le impronte per terra, i rumori che emetti, i passi, eccetera, eccetera. Infatti, se voi non siete nascosti, ok, sapete come funziona nascondersi, no? Ad esempio, voi dovete fare un tiro di furtività, che ne so, tiro il dado, faccio 14, e il mio bonus destrezza è di più 2, non ho, ad esempio, competenza perché non sono destrato in furtività, quindi faccio 16. Se batto la percezione passiva dell'avversario, sono nascosto. L'avversario, se vuole trovarmi, siccome la sua percezione passiva è inferiore, è inferiore, l'unica possibilità che ha è eventualmente consumare l'azione e fare una prova attiva di cercare, d'accordo? Quindi consuma comunque la sua action. Però torniamo adesso a noi. Quindi voi, anche se siete invisibili, non significa che siete nascosti. Fate attenzione a questo particolare. Quindi, anche se siete invisibili, non è che possiate passare in mezzo a delle guardie che stanno facendo la guardia, o penetrare in qualsiasi edificio perché tanto nessuno vi vede, perché la gente sente e vede che sta passando qualcuno, capisce che sta passando qualcuno. Anche semplicemente, magari vi muovete in armatura, siete un albero di Natale agghindato di oggetti magici e di altre cose, magari le persone possono capire dal rumore che fate che state passando. Oppure inciampate, oppure, che ne so, avete le ginocchia che vi scrocchiano. A me che fanno rumore, scrocchiano, non so se si dica così con le ginocchia. Quindi ricordatevi sempre di nascondervi. Se non vi nascondete e vi muovete da invisibili, quindi l'avversario, ad esempio, sulla griglia quadrettata, saprà sempre indicare in quale punto della griglia voi vi trovate e quindi chi vi attacca, attenzione, potrà farlo, potrà farlo con lo svantaggio e il tiro per colpire. Naturalmente uno non può vedervi, ricordate il discorso appena fatto per l'attacco di opportunità, oppure per indicarvi come avversagli un incantesimo, però, per esempio, potrebbe usare incantesimi ad area, tanto sanno esattamente dove sei, sei più o meno in quella zona lì, riescono a calibrare l'incantesimo, oppure può fare un attacco a distanza con svantaggio, o un attacco in mischia con svantaggio, naturalmente. Ecco, solo un piccolo appunto, che poi in effetti ho trovato scritto anche nel blog. Allora, come afferma anche Jeremy Crawford, il nostro caro amico Jeremy, fra gli amici Jeremy, allora, la condizione appunto di invisibile non significa automaticamente nascosto, però ci possono essere delle situazioni in cui la creatura avversario non vi sta ponendo attenzione. Ad esempio, quello che Jeremy Crawford dice, non so, se il barbaro ti sta urlando in faccia, o il ladro praticamente, cosa è che fa? Accende un barile di polvere da sparo vicino a te che sta per esplodere, magari tu non poni attenzione se c'è una persona invisibile nella stanza, e quindi, in un certo senso, quella persona potrebbe essere considerata nascosta anche se non ha eseguito la prova di nascondersi. Qui, insomma, è da valutare. Il Dungeon Master valuterà caso per caso, in ogni caso, caso per caso, in ogni caso, va bene, avete capito che, secondo me, converrebbe sempre fare la prova di furtività contraposta alla percezione passiva di chi sta lì attorno ed, eventualmente, in casi speciali, chi vi sta attorno non gliene frega assolutamente a voi perché ha altre urgenze e quindi potete essere considerati automaticamente nascosti. A pagina 194 del manuale del giocatore c'è un piccolo capitoletto dal titolo Attaccanti i bersagli non visibili che spiega come attaccare le creature invisibili. Allora uno dice, beh, me l'hai appena spiegato, Lorenzo, sia svantaggio, io so sempre dove si trova, sia svantaggio o tiro per colpire. Purtroppo, però, leggendo quel capitoletto non è formulato benissimo. Alcuna volta si fa un po' di confusione. Infatti, anch'io per capire, insomma, prima di chiarirmi un po' come funzionava l'invisibilità, diciamo che ragionavo in maniera un po' diversa. Allora, leggendolo, sembra che l'attaccante, quando attacca una creatura invisibile, debba sempre dichiarare un quadretto su cui compiere l'attacco per indovinare la sua posizione. È come se fosse sempre nascosto, in certo senso. Allora, niente di più sbagliato. Allora, dovete comportarvi in questo modo qua. Allora, se il nemico invisibile è invisibile, ma non è nascosto, oppure voi siete invisibili, ma non siete nascosti. Allora, che cosa fa l'attaccante? Attaccante? Attaccanto? Perdonate. Allora, l'attaccante sa in quale posizione si trova l'avversario invisibile? Ok, lo sa sempre, tranne distrazioni, come ho detto prima. Potrà attaccarlo in mischia o a distanza con svantaggio o con incantesimi ad aria. Se il nemico è invisibile e nascosto, perché potrebbe essere anche in centro della stanza, ma lui ha fatto la prova di furtività che ha battuto la vostra percezione passiva. Allora, che cosa capita? Allora, per portare un attacco in mischia o a distanza, l'attaccante dovrà dichiarare quale punto, ovvero sia quadretto, attaccare e applicare il solito svantaggio al tiro per colpire o attaccare con incantesimi ad aria sperando di includere nell'area d'effetto. Quindi, in questo caso qua, io non so dove sia la creatura invisibile all'interno della stanza, dichiaro di voler attaccare un quadretto e quindi effetto il tiro per colpire contro quel quadretto, ad esempio in mischia, con svantaggio. Se colpisco, vuol dire che effettivamente ho indovinato che era lì, se lo manco potrebbe rimanermi anche il dubbio di aver attaccato il quadretto sbagliato e quindi dovrei, ad esempio, nel round successivo o con un attacco successivo su un multiattacco, attaccare un quadretto differente. Questa cosa qua dovrebbe essere un attimo strategica. In alternativa, eventualmente l'attaccante può fare una prova di percezione consumando quindi la sua action, va bene, e contrapposta alla CD della prova di nascondersi dell'avversario, della creatura invisibile. Nell'ultimo manuale di Tascia c'è un nuovo stile combattimento che io ce l'ho scritto qui in inglese, adesso non ricordo qual è in italiano la traduzione, comunque che è blind fighting, che è molto efficace contro le creature invisibili, mischia contro di voi. Entro tre metri diciamo che voi potete attaccare le creature invisibili che sono attorno a voi senza dare svantaggio. Però attenzione che se queste creature sono nascoste voi dovete sempre indicare il quadretto. Ecco allora, come individuare le creature invisibili? Naturalmente ci sono degli incantesi sui vari poteri, però comunque se una creatura invisibile vi attacca voi sapete sempre dov'è. Va bene? Perché se vi attacca non è nascosta, quindi eventualmente se lei continua a rimanere invisibile nonostante dopo l'attacco perché per esempio sta usando invisibilità migliorata o qualche potere speciale che la mantiene invisibile nonostante lei possa, nonostante lei attacca, voi comunque sapete dov'è. Quindi lì si seguono le normali regole e sapete che dovete, potete contrastare il suo attacco quindi contrattaccare con lo svantaggio tiro per colpire. Oppure se volete individuarla dovete, se lei ha battuto la vostra percezione passiva col suo tiro di furtività, voi dovete usare la vostra action per fare la prova di cercare. Adesso non ricordo se c'è qualche classe del ladro e qualche sottoclasse del ladro che vi permette di usare la bonus action per usare l'azione di cercare. Però, attenzione, ci sono anche degli incantesimi di divinazione che servono per individuare le creature invisibili. Naturalmente il sistema migliore per vedere una creatura invisibile che ad esempio è nascosto, che non sta attaccando, che ha eseguito il suo meraviglioso tiro di furtività contraposto alla vostra percezione passiva è quello di possedere poteri e talenti che vi permettono di vedere l'invisibile come ad esempio l'incantesimo e vedere l'invisibile o vedere l'invisibilità. Adesso mi sfugge esattamente la traduzione in italiano. Attenzione però, c'è un modo di contrastarlo? Sì, c'è un modo di contrastarlo. Voi potreste utilizzare l'incantesimo anti-individuazione che se non sbaglio di terzo livello. Anti-individuazione vi nasconde dagli incantesimi di divinazione. Solitamente uno pensa ad anti-individuazione come l'incantesimo che utilizzi per non essere scrutato da qualcuno che guarda dentro la sfera che utilizza l'incantesimo scrutare o altri incantesimi comunque di divinazione che permettono di vedere a distanza osservarvi e così via. No, lo potete utilizzare anche per mantenere l'invisibilità. Allora, attenzione, se voi utilizzate questo sistema con gli incantesimi anti-individuazione non è un incantesimo a concentrazione questo fenomenale e se non sbaglio dura otto ore potete poi lanciarvi anche l'incantesimo in visibilità di secondo livello e quindi con mezzi magici voi non siete individuabili. E quindi questo incantesimo qua funziona anche contro mi sembra visione del vero. Anti-individuazione funziona anche contro la visione del vero. Avete presente che in alcune zone piazzano ad esempio degli specchi piuttosto che delle lampade che delle zone magiche che permettono di individuare magari su di luoghi importanti di guardie ci sono delle guardie e poi magari c'è uno specchio oppure nell'ultima avventura di Eberon che ho fatto mi sembrava che ci fosse uno specchio sull'epic rolling thunder in cucina o qualcos'altro che comunque vi permette di individuare le creature camuffate o le creature invisibili. Allora, anti-individuazione vi protegge contro gli incantesimi appunto che che permettono di adesso avete capito che mi sto impapperando comunque usate anti-individuazione va bene? Punto. Allora, avete capito che anti-individuazione vi protegge contro gli incantesimi di divinazione va bene? Per non essere individuati ma se volete fare i fighi perché secondo voi consumare un incantesimo di terzo livello che dura otto ore e che non usa utilizza nemmeno la vostra concentrazione vi sembra proprio da poveracci potete utilizzare il fichissimo incantesimo di ottavo livello che è vuoto mentale e che è un incantesimo della scuola di abbiorazione e vi permette di fare molte cose tra cui essere immune agli incantesimi di divinazione quindi vuoto mentale batte visione del vero e visione del vero è battuto anche da anti-individuazione quindi mi dispiace per voi che consumate un sacco di soldi per lanciare visione del vero sappiate che c'è qualcuno che riesce a contrastarvi e questa cosa qua secondo me è molto interessante prima di tutto perché slot di ottavo livello non ce ne avete così tanti ma anche il slot di terzo livello se cominciate che ne so a lanciarne più di uno perché dovete proteggere tutti i vostri alleati magari cominciate a lanciare siete in 5 5 è anche anti-individuazione e poi dovete lanciare un incantesimo di invisibilità di secondo di terzo quarto quinto di sesto livello ad esempio per proteggere voi tutti i vostri alleati e cominciate a buttarne via di slot semplicemente magari per passare attraverso una zona in cui potete essere facilmente individuati va bene insomma comunque intanto lo sapete anche questa naturalmente sulla condizione di invisibile l'incantesimo eventualmente in visibilità ci sono molte domande online sia sul sito di Sage Device ma ne ho trovate qualcuna anche nel compendio di D&D allora il compendio delle regole di D&D con le domande e le risposte ufficiali quelle approvate le trovate sul sito di D&D Beyond per consultarlo dovete prima di tutto essere iscritti gratuitamente a D&D Beyond avete accesso a D&D Basic potete farvi delle schede personaggio molto semplici proprio con i personaggi base e poi potete anche consultare il compenso delle regole allora ce ne sono soltanto tre di domande sul compenso delle regole andiamo a vedere quali parto da questa se sono invisibile divento visibile quando scocco una freccia contro un bersaglio nascondermi di nuovo richiede un'azione beh sì ovvio richiede un'azione la risposta è senza un'abilità speciale nascondersi in combattimento richiede l'azione nascondersi e qua non c'è poco da fare poi oppure quando un monaco usa corpo vuoto che è il privilegio del monaco di 18esimo livello arrivarci l'invisibilità rimane attiva anche dopo che il monaco è attaccato sì l'invisibilità del corpo vuoto del monaco non termina con l'attacco del monaco e questo è fenomenale avete un'invisibilità che non si interrompe dopo l'attacco la terza domanda dal compendio è la seguente l'uso di un'azione bonus interrompe l'invisibilità della supplica occulta tutt'uno con le ombre di un warlock sì la interrompe poiché l'azione bonus è un'azione mi rimetto gli occhiali infatti mi sembrava di non riuscire a leggere ciò che avevo scritto allora e questa qui è interessante allora quando termina l'incantesimo invisibilità immediatamente prima o immediatamente dopo aver attaccato o aver lanciato un incantesimo allora nel tweet che troviamo su saggio device c'è scritto l'incantesimo di invisibilità dovrebbe terminare subito dopo che hai effettuato un attacco o lanciato un incantesimo non prevede quello che stai per fare quindi questa cosa qua è interessante se volete stabilire il tempo ma anche perché qualcuno ha preparato l'azione che ne so come torna visibile lo colpisco quindi avverrà dopo che lui ha effettuato l'attacco o dopo che lui ha lanciato l'incantesimo un incantatore soggetto l'incantesimo invisibilità lancia un incantesimo che non richiede concentrazione può essere contrastato da contro l'incantesimo allora contro l'incantesimo richiede di vedere l'incantatore che sta neutralizzando quindi un incantatore invisibile che lancia un incantesimo non può essere contrastato ma questo ve l'avevo già detto prima l'incantesimo invisibilità termina anche se un bardo usa la sua ispirazione bardica no l'ispirazione bardica non è né un attacco né un incantesimo quindi non soddisfa i criteri per disattivare l'incantesimo invisibilità attaccare un oggetto conta come un attacco che porrebbe fine all'incantesimo invisibilità sì esattamente l'incantesimo invisibilità termina se attacchi all'incantesimo non importa cosa stai attaccando l'invisibilità conta come copertura totale ai fini del sensi divini del paladino l'invisibilità non conta come copertura perché la copertura è un ostacolo fisico e qui in effetti uno potrebbe andare in confusione perché si parla se vi ricordate prima di area pesantemente oscurata quindi facendo tutti qui i riferimenti là speriamo che in OneD&D si stai in questa cosa perché la gente fa confusione la quinta edizione di OneD&D è la più bella del mondo per tanti però ci sono alcuni particolari che in effetti sono un po' difficili se un artefice porta il suo Eldrick Cannon e qualcuno lancia invisibilità sull'artefice il cannone può diventare invisibile? è interessante questo allora l'incantesimo invisibilità di Dungeons & Dragons ti rende invisibile insieme a tutto ciò che indossi e porti se l'incantesimo viene lanciato su di te mentre porti un Eldrick Cannon il cannone è invisibile mentre è sulla tua persona poiché la tua invisibilità lo nasconde e quindi se lo metti per terra se lo metti per terra no torna visibile allora questo qui l'ho tradotto male cioè permetterebbe a individuazione del magico di una creatura sotto gli effetti dell'incantesimo di invisibilità no qua praticamente chiede se individuazione del magico può essere utile per scovare le creature invisibili allora percepire una presenza significa percepire che qualcosa è presente non la sua posizione potrebbe dire aspetta la magia vicina quindi il testo di individuazione del magico specifica che per vedere l'aura magico di un oggetto o di una creatura ciò deve essere invisibile quindi se tu lanci individuazione del magico senti qualcosa ma non lo vedi ah interessante questo allora mi accingo a concludere questo video allora abbiamo capito che l'invisibilità può essere utile a tantissime cose non soltanto per fare un singolo attacco ad esempio se avete l'invisibilità di secondo livello ma anche per fare le cose ad esempio potete lanciare l'invisibilità per fuggire da un'area minacciata d'accordo per uscire dalla portata dei nemici senza diventare oggetto di attacco di opportunità siete circondati un sacco di nemici e un sistema ottimo per fuggire va bene certo potreste anche fare disimpegno va bene però disimpegno vi dura soltanto quel round invisibilità invece comunque a concentrazione se riuscite a mantenere la concentrazione per diverso tempo potete anche allontanarvi di parecchi invisibili abbiamo capito che invisibilità non significa automaticamente nascosto abbiamo capito che anti-individuazione è utile contro incantesimi come visione del vero e anche vedere di invisibile insomma ci sono varie cose che potete utilizzare ah già non potete essere bersaglio finché siete invisibili di incantesimi che vi devono indicare e quindi cosa fare di più ragazzi utilizzate l'invisibilità per esplorare per combattere meglio per uscire dai pericoli e l'unica cosa che posso dire in questo momento è ciao a tutti e buon gioco pertanto ragazzi continuate a seguirmi fate mi piace a questo video fate mi piace iscrivetevi al mio canale dai vediamo se riusciamo a arrivare grazie a questo video magari a 130 iscritti ciao ragazzi ciao a presto ciao 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 ciao